Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla carriera con i New York Red Bulls, oggi andremo avanti nei playoff, abbiamo delle semifinali di conference da giocarci contro i Columbus Crew e vedremo intanto se riusciamo a passare questo turno contro un avversario così difficile, eventualmente passando questo turno potremmo andare avanti, giocarci fra fine ottobre e tutto il mese di novembre il resto dei playoff, l'obiettivo ovviamente, la speranza ultima è quella di vincere la finale, abbiamo già vinto la coppa US Open Cup e per il primo anno sinceramente mi basta quello, però non si sa mai, finché non ci butteranno fuori noi inseguiremo i nostri sogni. Allora io mi butterei subito in campo, così capiamo subito di che morte morire, nel senso che se perdiamo possiamo considerare già questo l'episodio che ci porta all'inizio della seconda stagione e altrimenti invece sarà l'episodio dove ci guarderemo tutti i playoff di MLS, per cui mettiamo la maglia fuori casa, così diamo un po' di visibilità anche alla maglia dark mode, è tutto, andremo contro i Columbus Crew che ci hanno fatto sempre male, speriamo di superare anche questo scoglio e di proseguire in questo playoff. Noi siamo la prima semifinale di Eastern Conference, le altre non si vedono ancora, o no? C'erano ma erano coperte dal bug, ok? C'erano ma ovviamente erano nere per colpa di FIFA, vabbè appena uscito, ci sta che non abbiano risolto certi bug. La difficoltà è sempre la ultimate con le sliders che metto in descrizione e ogni tanto faccio dei leggeri cambi ma li aggiorno sempre poi nella descrizione di ogni video. E cambia leggermente rispetto al Valencia, oggi sono un pochino difficili. Bravissimo Parker, qua dobbiamo spazzare, bravo Tarek, solo sostanza Tarek, niente fronzoli, solo sostanza. Ripartiamo col Cassiere, vedete che sono più veloci gli avversari ma meglio dobbiamo sforzarci a saltarli come si deve, palla dentro, il Cassiere, e allora tira tu il Cassiere, palla fuori. Non c'è finalizzazione in questo ragazzo. Cannon, attenzione, Zellarayan, questo è forte per forza, Mare Gervinio, il tiro, gol! 1-0 per i Columbus, goal di Valenzuela. Qua Gervinio non è stato Cannon e lo si è visto perché invece di spazzare l'ha ridata a loro. Deve stare molto attenti quando abbiamo la palla in difesa perché spesso non ci agganciano poi il compagno e il passaggio va a vuoto. Gervinio, dentro, Emrata, stop, il tiro di Emrata! Faccione del portiere, attenzione, Zardes! Bravo, riesce ad anticiparlo e si incazza, qua ha fatto un miracolo ragazzi, non è più un velocista questo portiere, anzi, è riuscito ad anticipare Zardes, occhio al colpo di testa, Cannon. Ragazzi, è in bilico la nostra prosecuzione dei play-off perché se subiamo anche il secondo gol poi si fa molto in salita. Non era l'avversario giusto con cui aprire un episodio. Amrò in anticipo. Attenzione, il tiro! 2-0. Zardes. Beh, ragazzi, erano i primi della Eastern Conference per un motivo. Ora non molliamo ragazzi, 4-2-4. Attenzione, il tiro! Niente da dire ai nostri difensori, ma non riusciamo a uscire dalla difesa! Sul 2-0 per loro! Bravo! Dentro! Il tiro! Oh, miracolo di Rom! Gervinio. Dentro. Emrata. Il tiro deviato, calcio d'angolo. Stanno provando raga, ma adesso è durissima. Muil. Il tiro di Muil. Dai, dai, dai! Io, Metic! Dai, dai, 2-1! Manca pochissimo! Dai, ragazzi, dai, dai! Io, io, ti voglio bene! Ma non basta! 2-1! Stanno facendo giro palla, li odio! Vabbè, che lo devono fare? Abbiamo un'azione. No, raga, segnano loro. No! Bravo! Schema! Deve andare bene. Deve andare bene lo schema. Muil prova ad arrivarci. Si ferma, Muil. Fai salire la squadra. Jovetic. Dentro! Non ci credo, Carbone era anticipato. No, li hanno tirata in faccia. Fischio finale, 2-1. Passano i Columbus Crew. Però ci abbiamo provato fino all'ultimo, raga. Abbiamo buttato via il primo tempo. E purtroppo ci siamo scontrati contro i primi della Eastern Conference. Un incubo per i difensori. È stato Zardes, non avevo dubbi. Devo dire, a sto punto, viva il realismo. Ci sta a perdere contro la prima della Eastern Conference, che andranno avanti. E si giocheranno la finale di Conference e poi la finale definitiva. Abbiamo fatto bene in Eastern Conference. Abbiamo battuto il City nel derby nello scorso episodio. Purtroppo oggi si ferma qui la nostra corsa alla MLS, ma ci riproveremo l'anno prossimo. Secondo me abbiamo ottenuto comunque quello che potevamo aspettarci da questa stagione. Dopo avremo l'inizio della seconda stagione, che per me è la stagione dove veramente possiamo fare la differenza. Perché la prima, con tutti i contratti bloccati, con tutto il casino, la prima stagione è sempre un po' di passaggio. La seconda sarà veramente decisiva e ho già grandi nomi da portare. Tra l'altro Jovetic, 20 gol in MLS, 25 il Cicerito. Ma comunque è stata una bella gara tra questi due. E complimenti a Jovetic per averci regalato una stagione mostruosa. Perché dopo i 12 gol di Emrata arrivano i 20 di Jovetic con 12 assist. Tutto questo in 36 partite, una media di 7,8. È lui sicuramente il protagonista di questa stagione e ha appena 29 anni. Quindi non è neanche un vecchietto. Ce lo possiamo ottenere e cullare ancora per qualche anno al top della forma. Quindi grande investimento per lui. Devo dire ragazzi, se devo scegliere per reparto, in attacco premio Jovetic. A centrocampo premio Emrata e in difesa premio Cannon, anche se non devo dimenticarmi di Aaron Long. E in porta devo premiare Claudio Bravo comunque, perché Baby Jackson ha giocato solo tre gare. Devo premiarlo perché è sceso di due a 36 anni. Comunque l'esperienza l'ha messa in campo e ha fatto sempre abbastanza bene. Questo era il nostro finale di stagione, che però non sarà il finale di episodio, perché abbiamo appena iniziato. Per cui andiamo a fare allenamenti, che in alcuni casi taglierò, perché saranno tanti allenamenti che ci permettono poi di iniziare la seconda stagione con una quantità però di giovani cresciuti che farà impressione. Allora, semifinale di conference, persa. Toronto batte Philadelphia Union. Questa è una grande sorpresa, Philadelphia Union erano tra i favoriti. Sporting Kansas City butta fuori gli LAFC. E Seattle Sounders battono 4-1 Portland Timbers. Incredibile ragazzi. Non ci saranno squadre di New York, non ci saranno squadre di Los Angeles. Davvero dei playoff matti. E le finali sono Toronto Columbus e Seattle Sounders Sporting Kansas City. Cannon e Richie... Attenzione! Richie Jackson! Baby J convocato negli Stati Uniti a 16 anni. Baby J ha 16 anni negli United States of America. A proteggere la sua nazione, a guidare la sua nazione. It's time to shine. Poi, Aliseda e Carbonito. Voi dovete crescere, perché altrimenti io ne compro uno che vi spazza via entrambi. E poi? E poi venite a chiedermi, per favore posso giocare? No. Per cui, Busio sa già che non gioca, quindi possiamo anche non allenarlo. E... A breve controlliamo di nuovo come è messo... Carbonero è salito di 6, eh? 6. Questa è una cosa seria. Allora, hanno vinto i Seattle Sounders. Avevo detto, butto un occhio sui Columbus e sui Kansas City. Finita. Sono passati i Columbus Crew col Toronto, immaginavo. Seattle Sounders con i Sporting Kansas City. A questo punto, in finale, io pensavo in una vittoria dei Columbus Crew, perché erano in gran forma. Invece, 2 a 1, vince la coppa della MLS, i Seattle Sounders. Che, se non sbaglio, recentemente hanno vinto. Detentore, Seattle Sounders. Sì, l'ha rivinto. Nel frattempo, ragazzi, occhio, brutta notizia. È sceso Jovetic. Era rimasto su grazie alle prestazioni, ma senza giocare. Ha compiuto 30 anni e me l'hanno fatto scendere di uno. Nel frattempo, io devo controllare se i miei osservatori stanno guardando i giocatori per il mercato. Perché sarà un mercato breve. Non ho tempo di osservarli prima. Devo osservarli subito. Allora, Bale, figo, però costa ancora troppo. Schurle, a questo punto abbiamo già Jovetic, per cui no. Vediamo altri. Allora, John Murillo, si è appena trasferito, lo osserviamo. Musonda, ci sta. Kennedy, anche lui mai esploso. Keita Baldera, al Burmouth, per cui direi di no. Anche se, devo dire che è un giocatore che non è mai esploso. Braithwaite, questo invece ci sta. Dopo tutta la visibilità che ha avuto al Barcellona, andare in America ci potrebbe stare. So, Ancrasin, mi è rimasto il pallino, potremmo optare su di lui. Però non è male anche Okugawa, che ce lo darebbe il Red Bulls a Lisburgo. Ortiz, adesso può essere interessante per la difesa. Abbiamo Nasri, ma sopra Nasri io vedo Fabregas. E dall'inizio dell'anno, quando ho iniziato a fare i New York Red Bulls, io la prima cosa che ho detto è voglio Fabregas. Perché Fabregas è il classico giocatore che io vedrei benissimo in MLS. Gli Aic però poi troppo, nel senso gli Aic, Jovetic cos'è? Un rebuilding della Fiorentina? Vediamo. Allora, ragazzi, dove ero rimasto? Walcott, sempre comunque benvenuto, ben accetto. Walcott e Fabregas è inevitabile, raga, ma anche Nasri. Cioè, io sono abbastanza legato ai ricordi di un Arsenal stratosferico che purtroppo è un po' morto ultimamente. Quando rivedo Fabregas, Walcott, mi ricordo di quell'Arsenal che aveva anche Thierry Henry, che aveva Van Persie, che è una delle squadre nella storia da quando sono al mondo che ho amato di più. Olebas, 35 anni, mi sembra che ormai sia andato. Alexis Sanchez, invece, cileno, in difficoltà da ormai qualche anno, potrebbe benissimo. È più da LA Galaxy, però ci sta. Joel Campbell, a me fa impazzire poi del Frosinone, sapete quando abbiamo sofferto il Frosinone. Ortega, sto ancora aspettando che salga un pochino, ma perché vedo la clausola, ma non è male. Mata, anche ce lo vedo. Menez è un 70, quindi ormai la squadra è cresciuta. In difesa poi abbiamo Kyle Ranocchia, che potrebbero essere ben accetti. Van Kinkler arriverà a 0, è a 27 anni, 77, questo è un colpo mostruoso. E arriverà anche Blake a 0, ricordiamoci di quanto ha fatto andare avanti i Philadelphia Union, questo portiere. Comunque ragazzi, ricordatevi sempre quello che dico io. A parte alcune eccezioni, se arrivano offertone dall'Europa per giocatori giovani e molto promettenti, per il realismo noi li dobbiamo dare via, ok? Per quello che voglio anche investire tanto sulla primavera, perché dobbiamo fare un bel lavoro poi coi giovani. Ragazzi, 31 dicembre 2019, siamo nel passato, ma comunque vi auguro buon anno in questa nostra carriera. E andiamo nel 2020, quindi seconda stagione. Mercato fresco, contratti sbloccati, giocatori da vendere, due campioni che arrivano a 0. Prepariamoci per una seconda stagione che sarà elettrizzante. Andiamo. Uh, dopo aver festeggiato il Capodanno in piazza con la Barbie, finalmente andiamo sugli inviti. Bellin, è venuto l'accento un po'. Allora, tutte e tre le coppe si giocheranno negli Stati Uniti. Qua però affrontiamo praticamente solo squadre americane e canadesi, abbiamo solo i Puebla. Però io non posso raga perdere quei 5, 5, tanto non la gioco. Eh, prendiamo quella che ci dà più soldi, perché mi sono complicato la vita? Non la gioco, la simulo. Allora, finanze, vediamo subito le finanze, raga. 30 milioni. Attenzione! Ci sono gli squali di New York che iniziano a girare. Questa seconda stagione dobbiamo vincere tutto. Arrivati, 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 arrivati! Attenzione! Van Ginkel, 77. Non giocherai lo stesso? Scherzo, ovviamente. Eh, se devo proprio rinunciare a qualcuno, sinceramente rinuncio a Davis. Lascio il capitano a Long e metto Van Ginkel davanti alla difesa. Fabian Johnson è in partenza. Attenzione adesso per il portiere, perché si fa difficile, ma io direi che possiamo fare così. In porta Blake e valutiamo se è effettivamente buggato, come ci ha fatto vedere nei Philadelphia Union. In panchina Baby J e purtroppo Claudio Bravo, 36 anni. Io spero che vada magari ancora un annetto in Cile a finire la sua carriera, però io lo terrei negli spogliatoi a insegnare ai ragazzi come si para, ok? Però non posso più garantirgli il posto a titolare perché c'è troppa competizione. Busio, dai ragazzi, guardate lo stipendio. Non si può. Trattativa contratta. Io ti chiedo scusa in anticipo. Eh vabbè, ma allora! E non lo vuole! Niente, allora rimani povero. Va bene Gianluca? Mi piace. Ti farò un regalo per i 18 anni, ti regalerò una macchina, qualcosa. Ma non posso. Io ho provato a tirarti sullo stipendio, non vuole. Aumento budget. Bene, c'è sintonia con la dirigenza. Ehi mister, davvero vuole cedermi? Non posso garantirti i posti in squadra. Claudio, mi soffro. Allora, in porta siamo a posto. Perché nella primavera qualcuno verrà trovato che sostituirà Bravo. Quelli da non cambiare. L'esagono perfetto di Cannon. Intoccabile. Parker e Long li terrei ancora. E anche Amrotharek. Ammetto che possiamo anche ambire qualcosa in più. Poi abbiamo Van Hinkle, Caceres, Emrata, Davis-Muil. Io a centrocampo starei così. Al massimo il sogno Fabregas. Qua, ragazzi, serve una stella. Con 30 milioni. Allora, con 30 milioni, secondo me, possiamo andare su. Un difensore. Un terzino. Uno dei due può essere un giovane del Sud America, come Ortiz. O l'altro, Ortega. A centrocampo, se vogliamo, prendiamo Fabregas. Ma secondo me, siamo a posto. Se no, non vediamo più giocare i nostri pupilli. Davanti, invece, non mi hanno convinto. Cioè, Jovetic è l'unico che mi ha convinto. Ma no, ma vuole ritirarsi Fabregas! Ma no, ma mi viene da piangere! Ma mi ha un boicottato. Ma 32 anni! No, cioè, se esco... David Luiz sarebbe affascinante. È un giocatore molto da America, secondo me. Ce lo vedo con la maglia dei Red Bulls. Voi no? Tiagone Silva. Però, 35 anni! Non è nì! Non lo so! Però... Beh! Boh! Ci potrebbe stare! Ultimo che mi scrivete, Juan Jesus. Però, effettivamente, brasiliano è andato al Cagliari. No, in realtà ci sta Juan Jesus. Soprattutto qua nella mia carriera. Il difensore lo voglio comprare forte. Ma prima io ho bisogno di capire che esterno forte prendiamo. Guardalo! Si somigliano! Si somigliano! Io vedo una somiglianza! Vedo un DNA in comune! Lo vedo? Lo vedo? Però, raga... Qua stiamo parlando di un fenomeno. Tu sei forte! È giusto che tu sappia che tu sei forte! Non mi state dando comunque giocatori... Ozil è figo. Ozil è veramente da... Da ex pro di FIFA. Ozil, raga! Ozil! William! Raga, William l'avevo già detto che lo volevo. Mi piace un botto, William. È che boh, raga! Cioè, è un grande Ozil! È che effettivamente... Ho paura che poi mi faccia... Da numero 10... Cosa che già fa Jovetic. Cioè, ha 66 di accelerazione. E 90 di visione. Allora, Ozil in una squadra come questa va messo C o C. Non lo puoi mettere esterno. Perché gli esterni da noi devono correre. Sennò ce li raggiungono subito. Ma secondo me, col fatto che è in scadenza... Accettato! Lo sapevo, cazzo! Dovevo abbassare ancora di più! Vabbè che potevo scendere sui 14, eh. Mi sto... Mi sto... Mi sto disperando per niente. È un affarone! È un affarone! Allora, iniziamo così. Offerta per il trasferimento. Il Bologna su Claudio Bravo. Attenzione! Il realismo lo posso fare io. Ma se devo rifiutare Bologna perché non è una squadra del sudamericano, ne esco scemo. Dai, 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 dai! Siamo nel mare del mercato! E io ci sguazzo! Allora, ragazzi, un applauso a Claudio Bravo che lascia i New York Red Bulls dopo un anno dando tanto, eh! Cioè, guarda, c'è William che... Guarda come sorride! Non vede l'ora di arrivare! Andiamo con William. Tratta! Dai, dai! È elegante! Bello! Fatto bene di faccia! Segna su punizione! Ha una buona visione! Un buon cross! Tira bene! Accetta! Va bene lo stipendio? Però riduco il bonus! Va bene! È arrivato William! Sono un po' incazzato perché odio trattare con questi agenti! Però va bene, raga! Va bene! Abbiamo anche preso l'obiettivo della dirigenza che era di comprare un top attaccante! Benvenuto William! Questo è un bel colpo, eh! Allora, William 81! Esagono stratosferico! Jovetic! William Jovetic! Gervigno! Come portieri ci siamo! Il terzo lo troveremo dalle giovanili! E comunque bravo! Deve ancora partire! Johnson ci darà un po' di gruzzoletto in uno scambio! E anche Macheda lo scambieremo! Facciamo così! Lo continuiamo la prossima volta in mercato! Lasciate un bel mi piace! Un commento! Tutti i link in descrizione! Ci vediamo prestissimo con un prossimo episodio! Ciao! Grazie a tutti.